No! 25 secondi guardate che ci vanno per passare a spazio sinistro ci sono gli altri che stanno nel tecnicio 2 minuti venuti, devi tirare il pilone, devi continuare a fare questo cosa c'è? la musica è una mostrosa c'è un po' giudice non c'è un po' giudice non c'è un po' giudice guardate che è arrivata la Giulia guarda buonasera Grazie